L'Inter è su Milinkovic Savic, una richiesta esplicita di Simone Inzaghi che vorrebbe riavere a disposizione il serbo per rinforzare il centrocampo con uno dei giocatori che immagino più piacciono anche ai tifosi dell'Inter. Io però devo analizzare il tutto in maniera molto oggettiva, quindi cercare di avere più informazioni possibile. Ho deciso allora di portare qualche domanda che anch'io mi stavo facendo in queste ore su Milinkovic Savic e di rivolgerle al nostro ospite di oggi, esperto di Mondolazio, Marcello Baldi. Marcello, benvenuto su Passione Inter. Ciao Lorenzo, innanzitutto grazie per l'invito, un saluto ovviamente a tutti gli amici di Passione Inter. Parliamo di Milinkovic perché sì, è un nome in questi giorni caldo, soprattutto in chiave Inter. La Lazio non è sicura di trattenerlo quest'estate, tra i club più in auge c'è l'Inter, ma ce ne sono anche altri, però in queste ultime ore i nerazzurri sembrano avere un po' più di appilla rispetto alle concorrenti. Ecco, mi dai l'assist subito per farti la prima domanda. Allora, intanto lascerò poi in descrizione il link al profilo Twitter di Marcello per seguirlo su tutte le notizie relative al mondo Lazio, ovviamente vi consiglio di seguirlo. Vorrei, con il tuo aiuto, capire innanzitutto che cosa sta succedendo, che cosa possiamo aspettarci, perché darò poi anche una mia opinione alla fine di questo episodio sul contesto, sulla discussione attorno a Milinkovic Savic, però che cosa è cambiato attorno ad un calciatore che fino a un anno fa, fino a pochi mesi fa, all'Inter pensavamo fosse totalmente inavvicinabile, cioè in pochissimi sogni, era un sogno, ecco, in quelle formazioni da sogno dell'Inter si metteva dentro Milinkovic Savic. C'è solo il fattore scadenza di contratto che si avvicina o c'è qualcos'altro che ha cambiato un po' le carte in tavola, secondo te? No, sicuramente un fattore determinante è proprio il contratto in scadenza tra un anno che ne abbassa tanto il prezzo e diciamo che la Lazio in questo momento ha un po', come si dice, il coltello dalla parte non del manico, perché chiaramente il rischio di perderlo a zero, quindi di fare una minusvalenza, una perdita di fatto, perché lui non è stato pagato tanto sui 20 milioni all'epoca, poco meno se non sbaglio, però poter perdere a zero un'ipotetica plusvalenza così importante, la Lazio che è una società che è abituata a operare in maniera calcolata, mesicolosa, sarebbe una gravissima perdita, cioè la Lazio quest'estate ha sofferto gli addi a zero di Stracoscia e Luiz Felipe che non sono Milinkovic, quindi per farti capire. E cos'è cambiato appunto? Dopo otto anni il giocatore ha 28 anni, quindi è anche normale che possa cercare nuovi stimoli, lui è rimasto a Roma anche in situazioni in cui secondo me avrebbe potuto tranquillamente cambiare aria, andare in un club un po' più importante, non che la Lazio non lo sia in Italia, però ci sono stati chiaramente nell'arco del tempo club di un certo livello che si sono interessati a Milinkovic, chiaramente le cose non sono mai andate in porto perché le richieste di Lotito sono sempre state molto alte. In questo momento il giocatore non è propenso al rinnovo, quindi il fatto che non sia propenso a questo rinnovo di contratto, col contratto in scadenza tra un anno, obbligano la Lazio a trovare una soluzione, quantomeno Lotito non lo vuole svendere, questa è una certezza. E l'augurio da parte del Presidente è che si possa scatenare una mini asta che magari possa vedere alzare il prezzo, che non sarà mai quello di un giocatore magari col contratto in scadenza tra due o tre anni, però chiaramente può guadagnarci qualcosa. Quindi c'è un mix di tempismo più anche una possibile volontà del calciatore di fare quel salto in avanti e tra poco ti farò una domanda proprio su questo. Prima però volevo chiederti, Sponda Lazio, come sono accolte in questi giorni queste notizie attorno a Milinkovic-Savic? Anche tra i tifosi c'è del timore, c'è preoccupazione? Oppure c'è la tranquillità che comunque si possa fare un buon mercato, magari sbloccando Milinkovic si può puntare su qualcun altro? Quali sono un po' gli umori? Sì, è ovvio che poi ci sono sempre una parte dei tifosi che la pensa in un modo e l'altra che la pensa in un modo. Diciamo che il sentimento maggiore è che è quello di un giocatore insostituibile, perché comunque in otto anni è il miglior marcatore straniero della storia della Lazio, un giocatore che abbina struttura fisica e tecnica, ne trovi pochi in Europa che lo sappiano fare bene come Milinkovic, nonostante quest'anno abbia fatto anche diverse prestazioni non all'altezza, qualcuno l'ha anche criticato, qualcuno proprio due o tre l'hanno anche fischiato, però si tratta di poche persone. Chiaramente i tifosi si augurerebbero di un trasferimento all'estero, piuttosto che rivederlo in Italia contro, perché posso capire che faccia male per un tifoso dopo otto anni vederlo giocare contro, però è anche vero che all'estero non arrivano grandi offerte, cioè non stanno arrivando in questo momento delle grandi offerte alla Lazio, soprattutto dall'estero, quindi penso anche a Real Madrid che ormai ha fatto un centrocampo di giovani, non andrà mai su un profilo con Milinkovic, un allenatore che lo conosce come Inzaghi, secondo me poi nel 3-5-2 lui si è espresso alla grande negli anni, quindi sarebbe proprio un profilo ideale che manca all'Inter dal mio punto di vista. Chiaramente ci sono tifosi che preferiscono perderlo a zero tra un anno, però secondo me è un ragionamento che non fila, perché per Lazio, ripeto, perderlo a zero piuttosto che guadagnarci anche poco, anche solo 30 milioni è sbagliato. Ecco, allora qualcosina hai già toccato, dicevi anche il fatto che qualcuno, pochissimi lo hanno anche un po' fischiato nell'ultima stagione, allora ti giro la prima domanda scomoda che ho raccolto anche da dentro la community di Passione Inter, nel nostro club, dal punto di vista mentale e anche dell'impatto che ha avuto questo calciatore nella Lazio, dall'esterno può esserci stata un po' la sensazione che lui magari due anni fa sembrava pronto a decollare verso club come il Real Madrid che citavi tu, verso grandi società, diciamo che ambiscono degli obiettivi in questo momento più alti magari rispetto a quelli a cui è abituata la Lazio, poi però non abbia compiuto quell'ultimo gradino, anche dal punto di vista mentale, anche dal punto di vista dell'impatto in determinati momenti decisivi. Questa è un po' una delle sensazioni che ho raccolto nella community di Passione Inter. Ti chiedo se tu hai avuto questo tipo di sensazione e se credi che sia un calciatore che può ancora fare quel salto di qualità in più, se magari il fatto di essere rimasto nella Lazio, sempre fermo restando che la Lazio è una delle più grandi società in Italia, possa aver rallentato quell'ultimo gradino che è nel suo potenziale. Sei d'accordo oppure no su questo? No, no, mi trovi comunque d'accordo perché lui ha 27 anni, ha ancora qualche anno in cui questo salto lo può fare, però siamo proprio al limite, nel senso che se lui non coglie in questo momento i potetici trasferimenti in club più importanti, arrivi poi a quasi 30 anni che è un po' più complicato fare il salto di qualità, non che sia impossibile. Chiaramente perché lui è rimasto tutto questo tempo alla Lazio? Perché le pretese di Lodito sono sempre state molto elevate, da parte sua c'è stato anche una forma di rispetto nei confronti del club, nel senso che se non arriva quell'offerta io non forzo la mano per andare via perché comunque lui sta bene a Roma, è stato bene a Roma in questi anni e continua a stare bene perché poi ancora non sappiamo quale sarà il suo futuro, però non è che lui sia rimasto controvoglia, non ha mai, guarda è stato un professionista esemplare perché non ha mai avuto i cosiddetti mal di pancia che spesso i calciatori hanno, secondo me le sue prestazioni sotto tono di questa stagione non sono dovute a un atteggiamento, a volte si pensa che i giocatori giochino apposta così proprio per spingere nell'andar via, no, probabilmente c'è stata anche una componente di testa, magari alcune voci hanno fatto male perché poi lui si è sfogato sui social in alcuni momenti, è un ragazzo comunque sensibile, ricordo delle lacrime non solo quando scartò la Fiorentina per venire alla Lazio, ma anche dopo un suo gol contro il Cagliari, non segnava da parecchie giornate, qualcuno l'aveva fischiato e lui si sfogò piangendo, quindi è un ragazzo sensibile. Torniamo al discorso di prima, Lorenzo, il salto di qualità mi linko e ce lo può fare adesso a 27 anni e ancora a ampi margini di crescita perché è un giocatore che ha veramente tutto e a volte si specchia un po' in se stesso, ci sono tanti altri calciatori di livello che lo fanno, secondo me può solo che migliorare andando in un club che però alzi l'asticella. Oggi che calciatore è secondo te? Unisce, dicevi, fisicità, unisce tecnica a dei numeri per un centrocampista spaziali, perché dicevi il miglior marcatore straniero della storia della Lazio è un centrocampista, lo ricordiamo. Che evoluzione si è vista secondo te nel periodo, magari negli ultimi due anni, dal post in Zaghi in poi? Che cosa è diventato Milinkovic oggi? Sì, con Sarri lui ha fatto un lavoro completamente diverso, poi l'anno scorso ha avuto dei numeri pazzeschi, andiamo a rivedere, doppia cifra di goal e assist, quest'anno ha sofferto un po' di più, però alla fine ha fatto, ora se non erro, 8 goal, 11 assist, un qualcosa di simile. Siamo lì comunque, sì, sì, sì. Se nella sua peggior stagione colleziona comunque questi numeri ti fa capire quanto comunque peso abbia questo giocatore. Ha struttura fisica, tecnica, colpo di testa, tiro, tante cose. Quest'anno ha messo in mostra anche un dato che nessuno si aspettava, è il centrocampista che ha percorso più chilometri, dietro lui c'è Brozovic. Da un giocatore come Milinkovic non te lo aspetti perché pensi che sia uno statico, invece con Sarri ha fatto anche questo tipo di lavoro di sacrificio che forse ha anche un po' penalizzato i suoi numeri, però sotto questo punto di vista possiamo dire che si è completato ancora di più, è un giocatore predisposto al sacrificio e per questo io penso che sia adatto proprio al centrocampo dell'Inter paradossalmente forse più di frattesi. Sono due giocatori completamente diversi, però dato che c'è in questi giorni forte per i nerazzurri anche il nome di frattesi, ieri sera stavo proprio pensando a chi dei due potesse essere più utile all'Inter, paradossalmente forse proprio Milinkovic. Perché per caratteristiche partendo dal fisico l'Inter con un centrocampo che oggi ha Barella, Brozovic, c'è l'anaglio Mkhitaryan, più Aslani un giocatore così palesemente manca, quindi mi fa piacere che tu abbia sottolineato questo e ti chiedo contestualmente a questo, Inzaghi è stato forse quello che gli ha fatto fare un salto di qualità prima poi dell'evoluzione che ha avuto con Sarri, eh lo rivedi quindi magari che cosa potrebbe rivedere l'Inter con un Milinkovic-Savic sotto le mani di Simone Inzaghi secondo te? Sì sicuramente avrebbe in rosa un giocatore da detto anche potenzialmente da doppia cifra di golle assist che sono numeri importanti per una scuola come l'Inter che hai citato te Mkhitaryan eventualmente frattesi Barella sono anche giocatori da inserimento cioè si inseriscono molto in aria accompagnano la manovra offensiva Milinkovic ha imparato a fare anche la fase difensiva poi nonostante sia il giocatore che perde più palloni in Serie A questo è un dato che va sottolineato però chiaramente inserisci rosa un giocatore innanzitutto che conosce la Serie A perché quello non è da sottovalutare ora quest'anno abbiamo visto tanti giocatori arrivare De Ketelar che era stato dipinto come Iraq e poi non è riuscito a fare praticamente nulla Wijnaldum più per gli infortuni che per altro perché alla fine ha fatto buone prestazioni però ecco io invece prendo Milinkovic prendo un volto sicuro che conosce la Serie A che ha quei numeri che ha struttura è un giocatore che mi manca nella rosa che è diverso da la maggior parte dei giocatori di inserimento che ho che è un totale upgrade rispetto a Gagliardini con tutto il rispetto su questo su questo troverai gran parte dei tifosi interisti pronti ad applaudirti e in definitiva quindi un po' per per fare un quadro finale della situazione da quello che dici tu e concordo Milinkovic sembra proprio il prototipo di giocatore che prende Marotta uno dei top delle altre squadre italiane un po' in concorrenza cerca di togliere i top quindi dal campionato italiano che conosce già molto bene la Serie A quindi ha tutte le caratteristiche che possono far gola all'amministratore delegato dell'area tecnica dell'Inter ma concretamente secondo te margini di manovra in questa trattativa l'Inter secondo te da quello che avete raccolto anche a Roma può accontentare effettivamente la Lazio per Milinkovic che qual è un po' la tua opinione in questo momento sull'affare ecco. Sì allora diciamo che alcuni colleghi hanno riportato recentemente una richiesta di 40 milioni che per il valore del giocatore ci sta assolutamente. Sappiamo che fare mercato in questo momento un po' per tutte le squadre italiane e spendere cifre così importanti è complicato. Poi stavo seguendo appunto la trattativa frattesi se andasse in porto comunque l'esborso non sarebbe basso. Penso che magari l'Inter potrebbe cavarsela anche con l'inserimento di contropartite dove magari la Lazio ha più bisogno. La Lazio sicuramente necessita di eventualmente qualcuno in mezzo al campo se non di giocatori di fascia quindi Bellanova ora non so se è così è un nome che mi è venuto in mente. Dovrebbe essere riscattato ma c'è una trattativa in corso. Sì. Comunque. Lo possiamo consigliare quindi eventualmente Bellanova. È sinistro o destro Bellanova? Ora mi sfugge. Bellanova è destro in rare occasioni è giocato anche a sinistra. Ok. Vabbè potrebbe fare al caso allora. Al di là di questo dicevo 40 milioni sono tanti ci si può venire incontro secondo me però ripeto Lotito è sempre stato uno che difficilmente è sceso a compromessi normalmente in questo tipo di trattative è stata la squadra a trattare a venire incontro alle richieste di Lotito. Ora penso al Milan con Biglia pagò oltre i 30 milioni e Biglia era in scadenza proprio come Milinkovic. Stessa cosa l'Inter con Correa comunque alla fine è andata in contro le richieste di Lotito. Sì quindi diciamo che Lotito difficilmente scende a compromessi. Secondo me con l'inserimento di contropartite o comunque per una cifra superiore almeno ai 25-30 milioni Lotito si può sedere e parlarne perché perdere a zero ripeto sarebbe un danno troppo grave per la società. Quindi il presidente a un certo punto finché può permettersi di fare diciamo di avere il coltello dalla parte del manico allora può fare pugno duro e poi a un certo punto deve fare delle valutazioni quando il tempo comincerà a stringere. Quindi è una trattativa che si può sbloccare anche lentamente. E sarà una forse di quelle telenoveli che molto spesso contraddistinguono l'estate dell'Inter soprattutto. Marcello ci hai fatto una panoramica completa ci hai dato spunti dati caratteristiche molto in profondità quindi su Milinkovic Savic ti ringraziamo a nome di tutta la community di Passione Inter ovviamente per l'intervento. Marcello Baldi link in descrizione ovviamente per seguirlo su Twitter. Grazie Marcello. Grazie a te Lorenzo dell'invito un saluto a tutti gli amici di Passione Inter. Grazie mille al nostro Marcello. Allora come dicevo io ho due parole conclusive. Marcello mi ha convinto nel senso che si arriva Milinkovic Savic io sono super contento ovviamente un unica un unico asterisco metto io a cui prestare attenzione più dal punto di vista progettuale cioè che forse frattesi per esempio a livello di caratteristiche potrebbe essere preso come operazione anche con delle condizioni economiche più vantaggiosa cui l'Inter deve comunque prestare attenzione in questo momento anche a livello di ingaggio e di formule varie della trattativa. Comunque Milinkovic Savic classe 95 se non vado errato per caratteristiche è il calciatore che in questo momento ci manca ci è stato consigliato fortemente dovesse arrivare all'Inter sarei super super felice faccio però una riflessione che riguarda come faccio spesso il ruolo dell'allenatore e quello del dirigente che fa mercato ovvero l'allenatore soprattutto in zaghi credo che dopo il primo anno sappia molto bene che al primo minimo dubbio viene messo in discussione e quindi l'allenatore ha inevitabilmente portato a pensare molto più al breve periodo quindi anche le scelte le priorità che individua sul mercato quindi le richieste che fa la dirigenza vanno molto in questa direzione del pronto subito e dell'intervento subito pronto all'uso il dirigente secondo me deve avere una visione anche più lungimirante quindi deve considerare anche il resto del centrocampo dell'Inter citavamo Vichitari, Ancianoglu, Barella, Brozovic se non sarà lui eventualmente a fare spazio a Milinkovic più Aslani che ancora un pochino da decifrare è un reparto di centrocampo molto forte quasi però da instant team e quella logica del player trading finisce un pochino in secondo piano può essere una strategia per carità non lo metto in dubbio anche perché io penso sempre più che l'obiettivo dell'Inter sarà quello di rendersi forte e dominante in Italia almeno finché non ci sarà un cambio di proprietà credo che l'obiettivo sarà quello di rendersi abili in grado di lottare ogni anno per lo scodetto in Italia e penso anche che la tendenza diciamo del calcio sarà porterà sempre più a puntare anche a delle squadre a breve a creare delle squadre a breve scadenza cioè con dei punti fermi ovviamente degli elementi che saranno un po' la spina dorsale della squadra ma tanti ragionamenti credo che saranno fatti di anno in anno per chi non ha tante risorse a disposizione in questo momento a differenza dei club inglesi e alcuni il Bayern PSG e queste squadre che conosciamo quindi tanti ragionamenti verranno fatti di anno in anno prestiamo attenzione vedremo quella che sarà l'evoluzione fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate domanda di rito di queste ore avete la possibilità di scegliere uno tra Milinkovic Savic e Frattesi voi chi prendete scrivetecelo nei commenti sulla base anche di quello che ci ha detto Marcello vi ricordo di fare un salto su passione inter punto club per entrare nel club di passione inter vi lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast un altro approfondimento da non perdere subito nel link in descrizione per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui salto su passione inter